Avete aspettato per questo video un giorno perché dovevo riflettere, dovevo cagare, dovevo analizzare attentamente la scelta che hanno fatto Giurini e compagnia cantante, quindi dopo un ritiro spirituale, o chiamatelo come volete, eccoci qua a parlare di Liverani, il nuovo allenatore del Cagliari. Non so come possa finire, come non possa finire, ma sinceramente mi stupisce anche l'enorme shitstorm nei commenti del post del Cagliari con un allenatore che sostanzialmente non c'entra niente. Cioè insultate Giurini, insultate Capozucca, ma non insultate Liverani che è arrivato, manco il tempo di arrivare, anzi è già molto che è arrivato perché ci vuole coraggio e ci vogliono due palle così in questo momento per andare a sedersi sulla panchina del Cagliari. Ecco, bisogna dire le cose come stanno. Prima di iniziare, scaricate il numero 10, app completamente gratuita, vi tiene aggiornati, H24 su ogni news calcistica e oltretutto ci sono anche dei contenuti esclusivi con Pierluigi Pardo, con Stefano Borghi, con diversi giornalisti e diversi influencer che tutti voi seguite. Ovviamente, cioè il vostro, l'influencer numero uno sono io, però ci sono anche altri influencer che purtroppo anche loro esistono, ecco, però dai, scaricate la parte, scaricate la link in descrizione, scaricate la link in descrizione, ecco, ci tengo a sottolinearlo. Liberani al Cagliari, non so come possa giocare perché il suo modulo è il 4-3-1-2 e io mi baserò su quello, nel video di domani poi vi farò un'analisi tattica, un'analisi proprio un po' così, cercando anche di capire quali giocatori deve prendere il Cagliari per il suo 4-3-1-2. Vediamo se anche Liberani in questo anno sabbatico si è ritirato spiritualmente, se ha cagato pure lui e se quindi ha ragionato e ha riflettuto su quale modulo giocare per non fare schifo, come ha fatto schifo al Parma. È un allenatore che a Lecce comunque ha avuto il suo miglior momento da allenatore perché l'ha portato in due anni dalla C alla Serie A a Lecce e diciamo che ha giocato bene anche in Serie A, però poi non sempre se giochi bene poi riesce a portare a casa risultati. E la cosa importante nel calcio sono i risultati, vabbè anche giocare bene perché nel caso del Cagliari ci serviva proprio un allenatore che riesca a far giocare bene la sua squadra. Nel caso del Parma non ci è riuscito neanche a fargli giocare bene, quindi bisogna vedere un po' se ha cambiato il suo stile o meno. Qua ci dicono anche che c'è l'accordo con Cesare Bovo che sarà vice allenatore, Cesare Bovo che ricordiamo tutti era un ex calciatore che pensavo giocasse ancora. Quello aveva 50 anni e giocava ancora, quindi pensavo giocasse ancora, no invece ce l'ha fatta a ritirarsi. Comunque vice allenatore Cesare Bovo, collaboratori tecnici Fabellini, Giuseppe Cacello per Match Analyst che se non sapete cosa sia il Match Analyst è quello che analizza dal punto di vista tattico non solo la nostra squadra ma anche la squadra avversaria. Magari c'è un Cagliari su Tirol e Giuseppe Cacello analizzerà il su Tirol, io che tra l'altro ho preso un attestato per aver partecipato a un corso di Match Analyst, quindi il Cagliari dovrà prendermi come Match Analyst, Giuseppe Cacello dimettiti che ci sarà solo a mondo calcio a fare il Match Analyst del Cagliari perché io voglio farlo. E l'ex difensore Fabio Pisacane come collaboratore tecnico, quindi ci servirà sicuramente Pisadog perché dal punto di vista dello spogliatoio sicuramente sarà un ottimo collante tra l'allenatore e tra la squadra. Preparatori porteri sempre il solito, Walter Bresa sempre lui, sempre lui. Preparatori atletici Cantarelli e Mauro Baldus con Francesco Fois dedicato a recupero infortuni che sinceramente poco me ne frega. La cosa che mi interessava a dire era che c'erano Bovo, Fabio Pisacane e il solito preparatore dei portieri che quello c'è sempre. Non si smuove da lì, quello ha il posto fisso. Diciamo che non convince neanche a me la scelta di Liverani perché poi bisogna dirlo non convince neanche a me perché è vero, è vero che comunque è un attore che non ha fatto bene al Parma e sinceramente non mi convince. Ma addirittura a dire che con Liverani andiamo in Serie C così non ci sto perché non gli avete manco dato il tempo e il modo di potersi esprimere. Più che altro dovete insultare tutti i giocatori che ci hanno fatto scendere in A, dovete insultare Giulini, dovete insultare invece di sprecare fiato ogni volta ad insultare solo gli allenatori. Ripensate che poi tra l'altro Liverani non ha manco messo piede ancora dal Seminello e già tutti a bersagliarlo. Pensate e sprecate il vostro fiato a bersagliare i vari Joe Pedro, Nandez e tutta quella merda, tutti quei cessi, quei bidoni dell'immondizia che andrebbero presi e schiaffi con lo scopino della merda. Ma ogni 20 minuti, non ogni due giorni, ogni tre giorni, no, ogni 20 minuti dovete insultarli, insultarli che quell'altro coglione se ne sta andando al Torino, quell'altro coglione se ne sta andando al Monza. Cragno, idem, se ne sta andando al Monza, ma che se ne andassero tutti a fare nel culo perché sinceramente mi sono stancato io di aspettare. Ecco, vedete quel buco, quel buco, ecco quel buco me l'hanno fatto loro, me l'hanno fatto loro con la retrocessione, va bene? Va bene, questo buco in testa, questo buco rappresenta il buco che ho in questo momento nella mia mente, nella mia mente, nel mio subconscio, va bene? Questo buco interiore che ho che non potrà essere colmato perché noi restiamo a fare la Serie B di merda, di merda, a giocare ogni giorno di sabato, cioè ogni settimana di sabato, e a giocare con squadre su Tirol, contro squadracce del genere, dai, non è possibile, non è possibile. E voi pensate a Liverani che è appena arrivato, ma Liverani è già molto che ha accettato questo incarico, io avrei sputato, in faccia Giulini me l'avesse proposto di allenare il Cagliari, l'avrei sputato in faccia. Quindi complimenti a Liverani che ha avuto le palle di accettare un incarico del genere, e di allenare una squadra del genere, vabbè che Liverani, anche lui è in cerca di riscatto, ecco appunto per questo, io invece sono fiducioso su Liverani, vaffanculo e io sono fiducioso, va bene? Anzi, cambio idea, ecco, sono fiducioso, totalmente fiducioso su un allenatore che deve riscatarsi e che potrebbe riscatarsi col Cagliari, quindi dai, io voglio profili del genere anche per quanto riguarda i giocatori, giocatori che o che vogliono, hanno una grande voglia di rivalza, di riscatto, o giocatori giovani, o anche giocatori da primavera, anche senza andare a spendere un patrimonio per andare a prendere certi giocatori, ce li hai anche in squadra certi giocatori da primavera, poi dipende anche dal modulo, perché col 4-3-1-2 non andresti a mettere i giocatori come Luvumbo in rosa, perché Luvumbo è un esterno, non puoi metterlo sulla tre quarti Luvumbo, non ci sta a fare niente, quindi adesso vediamo, dipende un po' come giocherà Liverani, ma per me è una scelta che potrebbe sorprenderci tutti, appunto, cioè, appunto per questo, ecco, più insultate Liverani e più sono convinto che possa essere l'allenatore più inaspettato e che potrà far meglio, ecco, quindi continuate a insultarlo, che a me viene ancora di più quest'idea che andranno bene le cose, quindi continuate a insultarlo, scusate se vi ho detto prima di non insultarlo, anzi continuate, continuate e portate questa cucurra, questa macumba inversa per permettere a Liverani di saper allenare una squadra un po' contorta come il Cagliari, adesso bisogna vedere anche gli acquisti che faranno, però era giusto prima prendere l'allenatore per fare degli acquisti mirati, perché non è che Liverani gioca col 4-3-1-2, mi vai a prendere due esterni sulle fasce, mi vai a prendere 800 difensori, no, bisogna fare acquisti mirati, domani uscirà anche il video basandoci su questo 4-3-1-2 che tornerà di moda perché noi abbiamo sempre giocato in questi anni col 4-3-1-2, ci siamo un po' staccati da questo modulo e adesso potremo anche tornare alle origini, ciao ragazzi!